Welcome to MiroTV ragazzi Dal titolo avrete sicuramente capito Perché ho aperto questo video con un intro Molto molto blanda e tranquilla Non mi sentivo minimamente De fare l'euforico Perché sinceramente parlando È una cosa che a me dispiace tanto Sapete benissimo quanto io tenga Alexa Bliss Non è una novità questo Che Miro dispiace tantissimo Per quello che è successo qua nel titolo Quello scritto nel titolo ragazzi Ma diciamo che Più o meno me lo aspettavo Me lo aspettavo perché Alexa Bliss Da mesi vive una situazione Secondo me troppo poco chiara Troppo poco chiara E averla vista combattere Soltanto una volta Dall'altro contro Bayley Tralasciando il fatto che ha fatto Dacti in match Nelle event Ha combattuto una volta in single match Ma quando mi sono ritrovato A leggere questa notizia qua Oltre ad essere in questo stato D'umore Che mi dispiace davvero tanto ragazzi Non per dire quanto mi dispiace Perché queste notizie qui Fanno un pochino male Ai sostenitori d'Alexa Però allo stesso tempo Avevo già capito Che qualcosa non andava Perché qualcosa non andava? Alexa Bliss è stata estratta Dal Money in the Bank Latter match O meglio è stata tolta Dal Money in the Bank Latter match Perché non è stata dichiarata pronta A combattere una contesa cruenta Io subito sono andato a sentire O meglio leggere Le parole di Meltzer E ragazzi L'umore mio Si è un po' più rialzato Perché Meltzer Ci ha assicurato Ora non so Quanto possa essere vero Questa cosa Però Vi ho sempre detto Che di Meltzer Mi fido a tre quarti Quindi cerco di prendere Queste superiore Quanto meno Con un po' di ottimismo Ci ha assicurato Che Alexa Bliss È stata tolta Dal Money in the Bank Latter match Perché sarà Un match cruento Ha fatto anche Una citazione Su il bump Che si è presa Natalia sotto la scala Ha preso Ha fatto tante altre Notevoli Considerazioni Forse giuste Ma non è che Io mi aspetto Money in the Bank Dove le scale Si vanno a spaccare Sulla testa De una woman No Però Forse Con quanto scritto Una maniera Sono d'accordo Alexa in questo match Se è in condizioni A quanto pare Non ancora buone Per combattere Un'assicurazione del genere È giusta Tenerla fuori Però ragazzi Sono preoccupato Sono preoccupato Perché Alexa Sono mesi Ormai no Sono mesi Che combatte davvero Molto poco Avresta almeno Avuto un ruolo Da host E l'ha fatto Secondo me Molto molto bene Era anche contento Era visto contento Ma allo stesso tempo Vi dicevo anche Durante i Melody V Oltre che in qualche commento Se questa sta facendo Lost Evidentemente Non sta benissimo Perché Alexa Bliss Non può Non combattere A Preston Mania Un personaggio come Alexa Non può rimanere fuori Avrebbero pure Buttarla lì Nella Battle Royale Sarebbe stata Sinagafonata Però Alexa Ci poteva stare Anche vincerla Assolutamente Proprio Quando ho visto Che sarebbe diventata Lost di Preston Mania Ero felice Che comunque È un ruolo Molto molto particolare Abbiamo visto anche I New Day I New Day hanno fatto bene Alexa ha fatto bene Altrettanto Però Dall'altra parte Pensando anche All'infortunio Che ha avuto Alexa Bliss Ho storto un pochino Il naso Sono preoccupato Sì ragazzi Sono preoccupato Spero ovviamente Di potermi fidare Delle parole di Mercer Piano piano Magari con i giorni Aumenteranno anche La mia voglia Di credere A quello che ho letto Di Dave Però ragazzuoli Ora pensiamo Al Money in the Bank Latter Match Chi andrà a sostituire Alexa Fatemelo sapere Qui sotto Nei commenti Anche se Un nome ce l'abbiamo Penso un po' tutti Nicky Cross Sarebbe quasi scandaloso Non vedere Nicky Cross Al posto di Alexa Dopo quello che hanno costruito Durante la settimana Ma la WWE è strana Questo lo sappiamo Tutti quanti Spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Ora non l'aveste ancora fatto È incredibile Come l'effetto Della notizia di Alexa Bliss Mi abbia demoralizzato La vittoria di ieri La Lazio Clamorosa questa cosa Clamorosa Fatemi sapere La vostra nei commenti Do sweet Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.